Non era facile per il cab solo fra di coach Giannacone superare la guerrita formazione del basket parete ed infatti i conciari nell'ultimo incontro casalingo di regular season non sono riusciti a conquistare i due punti. Dargenio e Soci sono stati battuti con il punteggio di 79-77 dai casertani che sono riusciti a respingere il ritorno in partita dei patroni di casa. Adesso la prossima gara sarà a Casa Pulla. La formazione di Tartaglione è una delle migliori del girono B di Serie D e l'ho dimostrato ancora una volta sul campo di Capomiseno dove hanno trovato una sconfitta ma solo dopo aver fatto tremare la capolista. Il cab avrà bisogno di una vittoria per non arrivare al stesso posto. In promozione il centro storico Avellino ha battuto il basket folla. La formazione di Francesco Ricciuto è lanciatissima ormai verso i playoff e potrebbe essere una seria candidata alla conquista del campionato. In prima divisione i bianco-verdi del basket club Irpinia hanno perso la prima gara di campionato sul campo del Sant'Anastasia. La sconfitta è arrivata dopo 13 risultati utili consecutivi. Nonostante il passo falso i bianco-verdi hanno vinto il campionato e dal prossimo anno gli uomini di Cardillo parteciperanno al torneo di promozione.